Niente, niente. Non mi capacito. Io non mi capacito. Tu ti capaciti? No, che ti devo capacità? Come si fa? Come si fa ad avere certi elementi che mi sono capitate in piattoglia? Sembra una cosa fatta apposta, non è possibile, non è possibile, una squadra più abbattuta. Quattro cioccolati sono e voglio parlare, non capiscono, non capiscono, sembrano limitati, non lo so. Uno non male, la mozette è uguale da chutin. Alla disperazione, però no, ma quelli miei sono peggio. No, sono peggio. Vuoi vedere quelli miei? Adesso sto. Appuntati! Com'è? Avanti! Guardate, c'è un asino che vola! Dov'è? 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 Guardate, ripanete. Sì. Però molto facile, quelli miei non capiscono, molto facile. Voi due scusate! Comandi! 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 Vi volevo far presente che ho saputo che c'è un asino che vola. Ma? Sì! Dov'è? 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 E se sta a stanno, non è che dicevo qua. Ma andando, non sbaglia mai. Beh, come fa? Io, vedi, vedi? Mani c'è. E' ferma a te. Ve l'ho apprendata. E' vero. 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 E' vero.